Ciao, io mi chiamo Angela Mandracchia e ho 25 anni. Sono nata in Sicilia ma adesso vivo a Roma. In Sicilia ho fatto per diversi anni teatro e ho studiato danza, sia classica che contemporanea. Poi dalla recitazione teatrale mi sono dedicata a quella cinematografica e ho fatto diversi workshop con alcuni registi, tra cui Pupiavati e Manetti Bross, anche con la casting Marita Delia e con alcuni attori, tra cui Fabrizio Giannini, Luca Angeletti e Ennio Coltorti. L'Umedialetto chiaramente è chito siciliano, però ho studiato dizione e continuo a studiarla, quindi posso anche parlare in italiano. Adesso vi mostro le mie mani e i miei profili. Grazie per l'attenzione.